Il World è presente in Cambogia dal 2009. Attraverso il suo segno a distanza riusciamo a dare aiuto a circa 23.000 bambini in tutto il paese, qui in Cambogia. Il tipo di aiuto che diamo consiste in cibo, in materiale didattico, quindi matite, penne, zaini, uniformi, ma anche biciclette. Proprio le biciclette sono importanti perché durante la stagione delle piogge, quando tutte le strade sono invase da fango, i bambini riescono più facilmente a venire e a raggiungere la scuola. Quindi il vostro supporto è fondamentale per permettere a questi bambini di frequentare la scuola e di essere oggi qui con noi e poter garantire un futuro migliore.